Bentornati nella nostra edicola del tempo, qui a Piazza Colonna dietro di me c'è Palazzo Chigi, Palazzo Chigi è il simbolo del potere italiano, del governo, della presidenza del Consiglio, sì lo è stato in tutte le ere da quella prima Repubblica che oggi ci sembra così lontana e lo è stato nella seconda Repubblica dove abbiamo visto l'Italia lentamente ma inesorabilmente prendere la strada del bipolarismo culturale, dividersi in due tronconi diversi da quelli che hanno animato la prima Repubblica, la prima Repubblica era basata su un'assenza di alternanza di governo, la democrazia cristiana, il partito cattolico, centrista, moderato, vasto che conteneva al proprio interno correnti, sensibilità diverse, stava sempre al governo, cambiava, cambiava la sua natura interna, cambiava le proporzioni delle sue diverse anime, come in una ricetta, contribuiva con pezzi diversi dello stesso grande partito popolare ad animare il governo spingendolo più verso il lato dei conservatori, la famosa destra DC, i governi andreottiani, o più il lato progressista, sociale e cristiano, quello dei demitiani, terza posizione, e si componeva assieme al cosiddetto pentapartito, che riassumeva nella parola stessa i cinque partiti che in qualche modo testimoniavano le diverse anime culturali post fasciste che avevano costruito la Repubblica, c'erano i liberali, parola spesso abusata ma che ha una sua origine e anche un suo enorme deposito culturale in questo paese che ogni volta che si risveglia fa del bene a tutti, i repubblicani, i socialdemocratici e il partito socialista che acquisisce poi negli anni, soprattutto gli anni di Bettino Craxi, una forza tale da prendere proprio Palazzo Chigi, quando il primo socialista leader di partito si siede lì e fa il governo con l'ADC cambia qualcosa, ma qual era il dato oggettivo su cui il paese in qualche modo non aveva chance? Il fatto che il partito comunista italiano, che era altrettanto grande perché prendeva più del 30% dei voti, somigliava alla DC, era la cosa più grande e alternativa che c'era in Italia alla democrazia cristiana, in qualche modo non aveva la patente per entrare in questo palazzo che vedete qui dietro di me. Perché? Perché il partito comunista italiano, per quanto sia stato guidato da democratici, Berlinguer è quello che è assunto a simbolo in qualche modo del grande e lento cambiamento che il comunismo europeo ha avuto negli anni, passando da essere filo sovietico, filo mosca e quindi visionario insieme al blocco comunista e al sol dell'avvenire di un'alternativa culturale, sociale e profonda per governare la cosa pubblica ad essere invece una forza che animava a sinistra il dibattito sui temi etici, sulla legalità, sulla forma di governo e lentamente provava a presentarsi al paese come alternativa di governo. Alternativa che nella prima repubblica e prima dell'89, cioè della caduta del muro di Berlino, non è mai stata realizzata nel governo nazionale. Il partito comunista governava due regioni storiche dell'Italia, la Toscana e l'Emilia Romagna, e aveva in qualche modo un diritto di coabitazione con la democrazia cristiana in alcuni grandi ambiti del potere italiano, il mondo della scuola, della cultura, il mondo sindacale. Quasi fossero dei compromessi che i partiti di governo facevano con i partiti di opposizione nella logica che si governa meglio se prevale la propria idea, ma è più largamente condivisa possibile e anche se concedendo al nemico qualcosa, in qualche modo lo rendi un po' meno nemico. Ecco, io ho sintetizzato molto velocemente una dinamica su cui l'Italia ha costruito sostanzialmente tutto il dopoguerra. Una dinamica che salta completamente all'inizio degli anni 90. cade il muro di Berlino e quindi i partiti comunisti d'Europa scelgono delle strade e il Partito Comunista Italiano sceglie alla Bolognina, il segretario era Achille Occhetto, la strada della democratizzazione, la strada dell'offerta di governo a un paese che l'aveva sempre visto all'opposizione, approfittando di un'inchiesta della magistratura che ha devastato, e ancora oggi portiamo i segni di quella devastazione, tutto il quadro politico repubblicano su cui si era retta, pur in momenti diversi, pur con ricette un po' diverse, come abbiamo visto, pur con tonalità un po' diverse, la struttura del potere italiano per 70 anni. e lo fa trasformando questo partito, il simbolo del partito era la falce e il martello, la bandiera rossa con sopra la falce e il martello giallo, era il simbolo del comunismo nel mondo, della rivoluzione leninista del 17, dell'idea che il popolo attraverso i suoi due simboli, il popolo operaio, quindi il martello, delle fabbriche, delle officine e il popolo dei contadini, dell'agricoltura, dei campi, si mettevano insieme per diventare proprietari in qualche modo del proprio lavoro, questo era il senso del comunismo. e da lì diventavano alternativi a un sistema che era considerato comunque borghese, elitario, perché per quanto popolare fosse la democrazia cristiana, aveva i suoi riferimenti nell'intelligenza e nella borghesia italiana e aveva un patto con la grande industria, aveva un patto con le parti sociali e quindi in qualche modo si dimensionava come un'alternativa difficilmente conciliabile. Fu Berlinguer a tentare l'ipotesi di conciliarla, ancora prima che il comunismo cadesse, che il sogno, l'utopia, per alcuni l'incubo comunista, cadesse nell'89 nel famoso compromesso storico da cui deriva in qualche maniera il più grande scontro del finale della Prima Repubblica e poi la morte di Berlinguer ci porterà dentro un pezzo del nostro passato che riguarda il rapimento moro, riguarda un grande regolamento di conti ai piani alti del potere e anche a un rapporto mai del tutto chiarito tra l'extraparlamento, la piazza, il peso che l'Italia viveva nelle strade, tutti i giorni, nelle università, nelle fabbriche e la scelta di andare o non andare a trattare con i comunisti. Bene, nella seconda repubblica tutto questo si manifesta apertamente. I partiti extragoverno, quindi il partito comunista e anche il movimento sociale italiano che era extragoverno per motivi diversi, perché ereditava dal fascismo un simbolo e un'idea del mondo che aveva fatto la scelta di non firmare la Costituzione italiana e quindi era in Parlamento aveva rappresentanza democratica, veniva eletto con il nostro stesso sistema elettorale ma non poteva partecipare al governo esattamente come l'avversario comunista perché governava quella fascia di mezzo, quella grande area di mezzo che era capace di contenere al suo interno le diverse sfumature della società. Bene, la seconda repubblica si presenta con due grandi cambiamenti. I comunisti cambiano simbolo, cambiano idea, dicono noi siamo la socialdemocrazia quella parola che ai tempi di Togliatti e anche di Berlinguerra era come una bestemmia se pronunciata dentro una sezione del PC, la socialdemocrazia che mette insieme una parte del partito socialista, quello di Craxi che aveva abbiurato molto tempo prima a Mosca la visione comunista e guardava invece a Washington, erano socialisti del welfare, socialisti europei, socialisti occidentali e creano questa nuova area che si chiama PDS poi si chiama RADS e da cui deriva nella fusione con un pezzo di quei cattolici che scelsero l'area sinistra nella seconda repubblica lo stesso PD. Dall'altra parte Gianfranco Fini fa una mutazione a Fiuggi, nel famoso congresso di Fiuggi della fiamma tricolore del movimento sociale dentro una grande alleanza nazionale, c'è un partito di destra che sceglie di aderire ai principi costituzionali, quindi di ripudiare il fascismo. Questa parola, questo mondo che già non esisteva più da decennie, che era stato non solo cancellato dalla storia, ma sepolto molto in basso nell'era repubblicana, un po' da tutti gli italiani, nasce il bipolarismo, come forma moderna di scelta che passa dai partiti al popolo, perché anche se è vero che noi non abbiamo mai avuto una forma di governo dove noi sceglievamo il premier, però l'epoca della seconda repubblica, quindi Berlusconi e Prodi, per capirci, questi due mondi, facevano sì che noi aderissimo a un progetto complessivo, noi andavamo a votare per scegliere da che parte stavamo e sceglievamo la destra o la sinistra, pur essendo stati fino a poco tempo prima magari l'uno dall'altra parte. Pensate solo ai due leader, Silvio Berlusconi, leader del centrodestra moderno, l'uomo che apre le porte della democrazia a Gianfranco Fini, che trasforma il partito post fascista in un partito di destra europea, veniva dal partito socialista di Craxi, che era un partito di sinistra, nei congressi del partito socialista c'era il colore rosso, c'era il garofano rosso, c'erano i simboli del socialismo europeo, si chiamava compagno un socialista con un altro, il compagno Bettino Craxi, aveva un gergo della sinistra. Berlusconi eredita di quel mondo di provenienza certamente non la parte originaria, quella della formazione culturale, ma certamente quella del craxismo, quindi dello sviluppo della sinistra che voleva dare un po' di più a tutti perché il benessere doveva essere diffuso in modo che si potesse portare il paese nell'epoca in cui si costruiva con l'industria e con un grande nuovo rapporto tra pubblico e privato il benessere per tutti. Quindi il leader della destra viene di fatto dal mondo socialista milanese. Il leader della sinistra è Romano Prodi era un democristiano, cattolico, certo bolognese, quindi con un tocco di comunismo d'antan nell'aria che aveva respirato, ma viene dal mondo delle partecipazioni statali, dall'Iri, cioè dal grande dominio democristiano, moderato, cattolico delle grandi trattative che aveva connotato la gestione del potere pubblico durante tutta la prima repubblica. Quindi noi ci troviamo in un mondo in cui ci dicono voi siete di destra, voi siete di sinistra con due leader che potevano tranquillamente, se le loro storie personali fossero state leggermente diverse, trovarsi sui fronti opposti. Poteva essere Berlusconi, un ex socialista, quello che guidava in qualche modo i socialisti nella visione nuova e poteva essere un democristiano, quello che guidava il centrodestra, ma è proprio in questa invece naturale inversione di ciò che poteva essere il conformismo mentale del paese che ci mostra che in quella frattura a metà dell'Italia tra destra e sinistra non c'era tutta questa chiarezza che noi ci vogliamo mettere, perché esisteva sempre una storia decennale di un centro del paese che aveva governato mutando magari idee, ma rimanendo in questa area cosiddetta centrista che a questo punto non aveva più dei confini ai lati, ma aveva un confine al centro, perché tu a un certo punto arrivato ad essere in questo fantomatico centro moderato italiano dovevi decidere con un passo se stavi più di qua o più di là e quel passo che fino ad adesso non aveva significato posizionamenti rigidi invece ti portava da destra a sinistra e quindi in questi 30 anni in cui noi abbiamo macinato bipolarismo senza dircelo davvero, senza cambiare la Costituzione senza trasformarlo in una norma, siamo diventati anche noi più partigiani senza magari essere mutati nella complessità delle nostre idee, almeno quel 40% di italiani che non può definirsi estremo per origine o per indole. Ebbene a che cosa assistiamo invece in queste settimane di scontro politico, alla deflagrazione di questo sistema di bugie, la politica è talmente confusa sui suoi valori di provenienza e sul fatto che la politica di per sé debba contenere nature dialettiche, nature diverse per generare un futuro migliore per un paese, sono idee e punti di vista diversi che devono scontrarsi per trovare una derivata comune, che la democrazia alimenta con il voto, con la maggioranza, il nostro sistema dice la pensiamo diversamente, andiamo a votare, voi esprimete attraverso il vostro voto come la pensate, si forma un Parlamento che pur con una sintesi, perché 60 milioni di cervelli devono diventare 600 persone, quindi è chiaro che c'è una sintesi che più o meno dovrebbe rappresentare il vostro pensiero, quando c'è qualcosa da decidere questo Parlamento si alza in piedi, litiga, fa gli amendamenti, le proposte di legge, si scanna, discute fino a quando una maggioranza che rappresenta voi ha deciso da che parte andare, e invece che cosa è successo? È successo che questo bipolarismo che noi abbiamo costruito più esternamente che internamente a noi, pur di rimanere tale, ha deciso di dirci che chi governa sbaglia sempre e chi è all'opposizione ha sempre ragione, e quindi siamo entrati in un Paese che fa i disfa, per cui tu quando va al governo un altro, quello che non hai votato, non ti interessa che il Paese proceda nella direzione dello sviluppo e di combattere le battaglie che ritieni sbagliate perché tu la pensi diversamente, no, l'importante è demolire tutto, pur di demolire tutto, in questo Paese si è costruita una lettura costituzionale assolutamente legittima, perché la Costituzione è talmente ben fatta che a seconda di dove tocchi suona una determinata musica, ma sostanzialmente dal 2010 in poi, cioè da quando un certo mondo italiano che non voleva Berlusconi al governo, ha capito che Berlusconi non era stato fermato, nemmeno dall'impeto giudiziario che l'ha colpito, cioè una quantità di processi e di ore di udienza gigantesche che non hanno prodotto nemmeno il topolino, non la montagna, nemmeno il topolino, si è deciso che l'Italia aveva bisogno di uscire da questo bipolarismo che gli italiani ormai avevano alimentato e continuavano ad alimentare con il loro voto, trasformandoci di nuovo in un Paese che non aveva due visioni, ma ne aveva una che doveva andare bene per forza e che si chiamava governo di unità nazionale, governo di emergenza, governo dei professori, governo dei saggi, insomma con questi nomi che vogliono semplicemente dire che è il governo di qualcuno, ma non di chi è andato a votare. Dura dieci anni abbondanti tutto questo, nascono governi come il governo Monti, il Presidente della Repubblica all'epoca napolitano nomina un importante professore italiano che aveva fatto il commissario europeo, un uomo che veniva dalla Bocconi, un grande economista, riconosciuto a livello internazionale come una persona saggia, prima senatore a vita per dargli in qualche modo un po' di sporcatura di palazzo perché non doveva essere un tecnico puro, doveva avere annusato il palazzo e non avere l'ansia di tornarci, quindi ce lo mettiamo per tutta la vita e pochi giorni dopo diventa Premier con il Paese che si inginocchia davanti a lui. Quando io sento dire che in Italia c'è poca democrazia, quando in questo Paese sento dire qualunque cosa da chiunque, anche il peggiori imbecilli, hanno ormai modo di dire qualunque cosa, vorrei che i colleghi giornalisti che dicono che c'è la libertà di stampa o di espressione in pericolo perché i fascisti sono entrati al governo che andassero a rivedersi le conferenze stampa che facevano con Monti, dove praticamente facevano le domande chiedendo scusa. Da lì l'Italia passa attraverso governi dove non solo non governa chi ha vinto, ma governa chi ha perso, perché il PD trova in tutti i modi il passaggio istituzionale necessario per dire che anche se alle elezioni i cittadini italiani avevano mandato al governo quegli altri ci dovevano stare loro, fino ad arrivare a Draghi che mette insieme un pezzo di destra e un pezzo di sinistra per far finire una legislatura che aveva avuto un unico problema, che Giuseppe Conte, che fino a pochi giorni prima delle elezioni praticamente era un avvocato semisconosciuto di questo paese, aveva guidato due governi, uno di destra e uno di sinistra senza che nessuno dicesse come mai e quindi bisognava finire in cavalleria. Oggi torna con il governo Meloni una cosa che deve piacere a tutti, sia a quelli che l'hanno votato, sia a quelli che non l'hanno votato e che andrebbero in piazza a fare le barricate contro questo governo, cioè che gli elettori italiani hanno espresso una maggioranza parlamentare che ha formato un governo e hanno chiuso con il loro voto un periodo buio che non era ritornare alla prima repubblica come ci hanno raccontato, cioè costruire una maggioranza di alto spessore moderata, era rubare al paese il diritto costituzionale di essere rappresentati dai propri eletti, cosa che la democrazia cristiana non avrebbe fatto mai, nemmeno di fronte al pericolo più grande del mondo per lei, le inchieste giudiziarie che stavano travolgendo nel 92-93 il sistema si permise di immaginare di levare al popolo italiano il diritto di votare. Quindi partendo dal fatto che questo diritto si è ripristinato, domandiamoci come mai oggi assistiamo a sinistra a un proliferare di accuse, inchieste, arresti che riguardano il voto di scambio, abbiamo visto Bari, abbiamo visto Torino, abbiamo visto Cassino, c'è pure qualche esponente del centrodestra a Palermo nelle ultime ore che finisce in questo tipo di sistema. Quando questa cosa esplode, la prima cosa che fa la sinistra è accusare il ministro Piantedosi, cioè il governo Meloni, di avere usato un atto politico per mettere il bavaglio a un'amministrazione eletta dal popolo, quella sindaco da Carro a Bari, in ragioni elettorali e invece scopriamo che tutto quello che sta succedendo è figlio del racconto che abbiamo fatto, e cioè del fatto che emerge semplicemente che un partito come il PD, che ha governato per 15 anni senza mai avere vinto, può avere un unico collante di questo sistema di potere, non avendo l'ideale elettorale perché altrimenti avrebbe vinto e che è il potere. E quindi cosa stiamo vedendo? Stiamo vedendo emergere come le bolle di acqua calda da una fonte sotterranea ribollono e tu capisci che lì sotto c'è qualcosa che brucia, stiamo vedendo emergere il finale di partita di quella sinistra che ha preferito il palazzo al popolo e che oggi avrebbe bisogno di un grande rinnovamento nelle idee, nella visione del paese che non passa da questo palazzo qui, non è nell'attacco alla Meloni che si forma questa unità, ma nel capire come arrivarci attraverso quel sistema che spiace dirlo la sinistra usò solo due volte nella sua storia e fu sempre Romano Prodi, capo di quella coalizione che ormai non esiste più, che vincendo le elezioni era entrato a Palazzo Chigi e non aveva avuto dalla destra l'accusa di essere illegittimo di voler fascistizzare il paese, l'ha avuta dai suoi che pur di non cedere al popolo italiano evidentemente la possibilità di governarli come avevano chiesto, ha fatto due volte cadere Prodi per voti propri interni, prima D'Alema che l'ha sostituito e poi Bertinotti che uscì dalla maggioranza e che costruì sostanzialmente la fine di una sinistra allargata che aveva nelle urne lo strumento per manifestarsi. Cosa succederà adesso? Succederà che Elislein è di fronte alla sfida più difficile, Elislein non vuole questo PD, non vuole i dirigenti del voto di scambio, non vuole nelle sue liste la vecchia storia di un partito di potere, Elislein vorrebbe un partito nuovo, tant'è vero che sta candidando o provando a candidare un sacco di cosiddetti civici che a me fanno venire il volta stomaco, se penso all'utilizzo di Ilaria Salis e delle manette in Ungheria per provare a scuotere le coscienze, se penso a Patrick Zacchi, penso a una storia d'Italia che a me non piace, penso che queste siano sceneggiate pubblicitarie, però il significato che hanno è che lei non vuole i vecchi, solo che i vecchi se ne sono accorti e quindi stanno creando un golpe rosso contro di lei, i suoi dirigenti non la vogliono più segretaria e stanno costruendo un accordo con Giuseppe Conte, con cui avevano fatto il governo dentro questo palazzo senza avere vinto le elezioni, perché preferiscono che il PD vada male e Conte torni leader in modo da cambiare di nuovo segretario, ce ne sono tanti dentro il PD che vogliono questo, di tante aree politiche, la sinistra del partito, uno a cui non piace Schlein è Orlando, Andrea Orlando, evidentemente perché pensa che la sinistra del PD sia rappresentata già dal segretario, un altro è Bettini, il guru della sinistra romana che deve aver abbandonato per Conte l'astorico legame col suo pupillo Zingaretti che adesso prova a ricandidarsi alle elezioni europee, poi c'è Guerini, l'ultimo renziano riformista rimasto ortodosso al PD dentro i governi di centrosinistra e oggi dentro il partito, insomma c'è un pezzo di PD che non vuole cambiare e pur di non cambiare è disposto a perdere e c'è un segretario che ha più i suoi contro che non il governo di destra e che, questa è una profezia, vincerà questa sfida solo se Giorgia Meloni e Dalli Schlein riusciranno ad essere il vero duello elettorale nelle urne politico destra contro sinistra scavalcando tutti i giochi e le polemiche e le partite che sotto di loro vorrebbero delle elezioni dove il voto non va nella direzione del bipolarismo, della scelta netta, quella che il premierato vorrebbe consolidare come prassi costituzionali di questo paese, ma verso diciamo quelle aree grigie che vogliono il PD oggi in parte in campo per se stesso, in parte in campo per il suo più grande avversario che non è Giorgia Meloni ma è Giuseppe Conte.